Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Viagioni. Partiamo dalla FIPILI dove si registrano due chilometri di coda a causa di lavori tra Pisa Nord-Est e Cascine in direzione dello svincolo Firenze-Livorno. In A1 si registrano invece rallentamenti a causa di una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Postiamoci sulla tangenziale di Siena dove si consiglia di fare attenzione ad un incidente avvenuto a Porta San Marco che coinvolge entrambe le direzioni. Sulla statale Aurelia fare attenzione allo scambio di carreggiata a causa di lavori tra l'incrocio con l'A12 e Rosignano in direzione Nord, chiuso anche lo svincolo all'incrocio con l'A12 sempre in direzione Nord. Firenze si ricorda che d'oggi 16 luglio attiva il prolungamento della linea 1 della tramvia dalla stazione Santa Maria Novella a Careggi. Muoversi in Toscana Info realizzata in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!